Ciao, scusate il ritardo ma Allegri parlava alle 14 e 15. Vi dico la verità ragazzi, sono molto contento di fare questo video oggi, molto molto contento perché ci sono diverse cose che voglio dirvi e ci sono diverse sfumature che mi sono piaciute all'interno di questa conferenza stampa. Prima di tutto vi dico il tono, la concentrazione che mi è sembrato di respirare anche a distanza sia da parte di Di Maria sia da parte di Allegri. Io ho visti determinati, concentrati, vogliosi ma allo stesso tempo pure sereni. Quindi una sorta di ok siamo consapevoli che domani sarà un appuntamento difficile, siamo consapevoli di essere una squadra comunque che può passare il turno, siamo consapevoli delle difficoltà perché loro sono una squadra forte ma noi siamo qui e ci vogliamo arrivare. Quindi queste sono le vibes che mi sono arrivate. Ovviamente la conferenza stampa c'entra poco o niente con quella che poi sarà la partita ma se devo dirvi la verità mi ha fatto molto molto piacere vedere concentrati sia Di Maria sia Allegri all'interno di questa cosa soprattutto Allegri. Io non ho ricordi una conferenza stampa di Allegri così scheletrica, così priva di dettagli con Allegri che risponde alle domande senza fare dei giri. Schietto, domanda risposta, domanda risposta, domanda risposta, senza battute ma comunque non arrabbiato. Si vedeva, era proprio un allenatore sereno proprio della serie domani andiamo a farci sta partita qua, è importante, è forse la partita più importante della stagione. Dovete a questo punto, anzi lo è, senza ombra di dubbio, benissimo, c'è da fare, la facciamo e siamo consapevoli di poterla fare. Ripeto, non c'entra niente poi lato campo però almeno credo che si stia vivendo con il mood giusto e il mood giusto ce l'ho anche descritto Di Maria all'interno degli allenamenti di ieri e soprattutto di oggi dove abbiamo visto un gruppo molto molto sereno, rilassato, felice anche, divertito. Ci arriviamo. Di Maria dice Il gruppo sta molto bene, veniamo da una vittoria importante con l'Atalanta che ci ha dato una spinta in più per affrontare anche l'Europa League. Anche oggi in allenamento abbiamo visto che la squadra sta bene ed è molto importante. È vero, ho avuto grandi allenatori e anche con il mister mi trovo bene, è eccezionale, ci fa lavorare molto ma in maniera diversa dalle mie abitudini. All'inizio mi è costato qualcosa abituarmi, poi ho preso il ritmo di come piace lavorare a lui. Ora sono migliorato, ora sono in forma e credo di averlo dimostrato negli ultimi mesi. Io credo che Di Maria in questo momento non sia al 100%, anzi vi dico la verità. Io non vedo una Juve che sta bene, ora come ora, però è una Juve in netta ripresa rispetto alle ultime partite e intendo ovviamente al mese di aprile. Sembra una banalità, ma la partita giocata con l'Atalanta, con tutti i limiti e i difetti che ci sono stati in quella partita e con tutti i pregi comunque che ci sono stati, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, ha evidenziato una cosa, che la Juve in ripresa anche fisica. Perché senza avere una sorta di forma fisica accettabile, con l'Atalanta perdi. Non c'è modo di venirne fuori. Il fatto che sei riuscito poi a vincerla, ripeto, con i limiti perché è stata comunque una partita con delle difficoltà e le sappiamo tutti, dal punto di vista dell'atteggiamento e comunque determinati momenti della partita in cui hai cercato di fare qualcosa in più, ti ha dato l'impressione che stai meglio. Poi l'Atalanta ha fatto la partita, tante volte ti ha schiacciato, però in alcuni frangenti tu ne sei venuto fuori a questa cosa qui, segno che la Juve sta migliorando. Voi direte, è il 10 di maggio, siamo un po' in ritardo. Sì, assolutamente, ma non è nemmeno la Juve di aprile. Questa è un po' la lettura che devo darvi, che mi pare di vedere. Di Maria dice, sì, non ho ancora mai vinto l'Europa League, l'ho giocata soltanto due volte, una col Benfica e ora con la Juve. Mi manca e sono concentrato al 100% per ottenere questo titolo. Tanti mi dicono, ma sì, sei già campione del mondo, cosa te ne frega di queste torfai minori? Ma non è così, sono concentrato. Per il futuro, sto parlando con la dirigenza, già da un po' discutiamo sul rinnovo, però ora sono sconcentrato sul Sevilla e poi valuteremo a fine stagione. Quindi Di Maria che apre anche la possibilità di permanenza alla Juventus, lo sapevamo, e poi è tornato su questo discorso, quindi non vado a commentare perché dice, come ho appena detto, lo ripeto, sono molto contento, mi trovo bene qui, così come la mia famiglia. Stiamo lavorando con la dirigenza per programmare il futuro, ma vedremo al termine della stagione. All'inizio è stata dura, ho avuto gli infortuni che mi hanno impedito di arrivare al 100% e mi hanno impedito di dimostrare tutto il mio valore. Ho iniziato a lavorare meglio e questo ha migliorato anche il mio rendimento, ed è la cosa più importante. Ora dobbiamo vincere e arrivare in finale, ci teniamo molto, soprattutto anche per i supporter, per i tifosi. Speriamo di arrivare anche nei primi quattro di campionato, poi vedremo. Di Maria rimanda i discorsi relativi al futuro e poi dice, però non cambia niente quello che succederà alla Juve, che sia Champions oppure no. Questo è indifferente, per me l'ho detto più volte. Quello che mi è successo è successo a tutti con i punti che vanno e vengono. Continuiamo a pensare che siamo secondi e siamo lì a lottare per i primi posti. Abbiamo lavorato bene dopo le notizie che sono arrivate e per questo invece ci pensano i dirigenti e il presidente. Noi siamo insieme al mister e pensiamo al campo e raggiungere gli obiettivi. Allora, qua un po' articolata perché nel video che ho pubblicato in giacca e camicia, lo ricorderete, ero a Parma per una laurea in cui si parla proprio dei rinnovi di Di Maria Di Rabiot, vi dicevo se da quello Di Rabiot dobbiamo aspettarci la Champions League, io non sarei stupito di un Di Maria che rinnova anche senza Champions, proprio perché sono diversi momenti della carriera del calciatore. Rabiot è all'ultima possibilità di fermare un rinnovo importante o comunque un contratto importante con una squadra che fa la Champions, Di Maria l'ha già vinta, ha già giocato in alcuni club, una volta arrivato alla Juve, se vuole farsi un altro anno in Europa, se lo fa tranquillamente, Champions o non Champions, se invece non lo vuole fare e vuole direttamente tornare all'Argentina, torna all'Argentina. Però su Di Maria non sarei stupito di un rinnovo anche senza Champions e oggi lo conferma, poi che sia onesto oppure no soltanto il tempo ce lo dirà. Di Maria continua a battere il chiodo della squadra con l'allenatore, oggi abbiamo visto anche un Allegri applaudito al suo ingresso in campo dalla squadra, una sorta di, secondo me, presa in giro simpatica, nel senso che c'è questo rapporto comunque buono, si vede tra la squadra allenatore, se no non ti permetti di fare certe cose se il rapporto non è buono, anche se il momento non è buono di rapporti interpersonali. Quindi è stato molto bello, secondo me, vedere questo video in cui la squadra scherza, applaude ed esulta per l'ingresso in campo di Allegri. Significa che comunque in questo momento c'è un buon mood e chiunque abbia giocato a calcio sa benissimo quanto è importante anche lavorare con il sorriso piuttosto che sempre. E il momento è brutto per la Juve vedere che almeno la squadra è concentrata e almeno la testa, da questo punto di vista, sembra essere libera. Secondo me è un ottimo segnale, non significa che si passerà, anzi, poi ne parleremo domani nel video in preparazione appunto alla partita. Però Di Maria sta lì e insiste su quel binario lì, la squadra è col mister, stiamo bene, abbiamo degli obiettivi, il resto non ci interessa, c'è l'Europa League, la voglio vincere, non l'ho vinta, vogliamo vincerla tutti anche per i tifosi. Ci sta. Per me non ci sono rimpianti per il derby di Champions, quello che succede a Inter e Milan sono affari loro, noi pensiamo alla Juve, ne abbiamo già abbastanza. Benissimo, anche qua, perfetto. Credo che i ragazzi abbiano già, i ragazzi giovani intende, abbiano già la testa pronta per affrontare questa competizione o la Champions. Sono giovani di grande qualità, dal primo giorno ho visto una crescita continua ed è una qualità relativa al mister che lascia spazio ai giovani per metterlo a giocare minuti, per poi essere pronti a giocare anche in partite importanti come quella di domani. Questa cosa cambierà la loro vita, sarà un'esperienza unica per i ragazzi anche in vista delle prossime competizioni che verranno nei prossimi anni. Quest'anno sicuramente la Juventus ha dato spazio a tanti ragazzi che negli anni precedenti invece non avevano mai visto il campo. Quest'anno complici infortuni, complici situazioni, per fortuna questa cosa è venuta fuori e infatti come dico sempre è uno dei punti nei quali secondo me veramente inattaccabili Allegri. Qualcuno potrà dire sì però l'ha fatto perché mancano i giocatori, sì questo è vero però i giocatori anche un po' più giovani quest'anno, quelli con meno esperienza, il campo l'hanno visto e questa secondo me è una delle poche cose che non si può rimproverare da Allegri quest'anno. Diciamo che il calcio italiano è molto più tattico, bisogna difendere molto e uscire in contropiede, forse l'unica diversa tra tutte è il Napoli con Osimen, si comporta in un altro modo, poi alcuni hanno più possesso altri meno. Io sono stato tanti anni nel PSG e sono stato abituato al possesso continuo, forse la parte che mi è costata di più è stata quella di uscire in contropiede, ma ogni partita aiuta a crescere anche a 35 anni, è importante continuare a crescere. Di Maria racconta un po' i limiti che ha trovato all'interno del suo percorso da Juventus, ha detto che comunque adesso è passato, si è adattato, gli è costato un po' di più inserirsi in questo contesto. Io tra l'altro voglio sottolineare che noi il contropiede, sì, c'è tanta difesa, ma il contropiede è poca roba, poche volte, infatti l'altro giorno il gol di Vlaovic è arrivato in contropiede, finalmente iniziamo a sfruttare certe cose, però non siamo proprio dei maestri in contropiede, sì ogni tanto lo facciamo, però non siamo ancora eccellenti, va, diciamo così. Se aveste visto l'allenamento di poco fa avreste visto, sì vabbè, un gruppo felice che sta bene insieme e si allena divertendosi. Quello che si dice fuori non ci importa, sappiamo che è stato un anno duro, noi abbiamo continuato a giocare, sono molto contento qui, anche per via del gruppo eccezionale, anche persone che non conoscevo mi hanno stupito, sono super tranquillo, anche come rapporto con gli altri giocatori in squadra. Quindi Di Maria, parole e musica, sto molto bene, bla bla bla, e quindi ovviamente non poteva dire nient'altro, non avrebbe mai detto no, mi trovo male, voglio andare via, però sicuramente ci lascia alcune indicazioni interessanti, ovviamente non ufficiali, come diciamo sempre in conferenza stampa, ci sono anche tante bugie bianche, però Di Maria ci fa capire che il momento è buono, che lui è concentrato, che la famiglia sta bene qua, che la squadra è tutta dalla parte allenatore e che sono sereni, tranquilli, vogliosi di prendersi la finale. Speriamo che possa essere davvero così. E poi passa la palla al mister Massimiliano Allegri, voi lo sapete bene perché comunque le conferenze di Allegri le commentiamo spesso e volentieri, una o due volte a settimana, e tante volte Allegri ha voglia di scherzare, fa dei giri, non risponde esattamente alle domande che gli vengano fatte, invece oggi è stato completamente diverso, un atteggiamento diverso, proprio che ti fa capire il livello di concentrazione anche da parte dell'allenatore. Se vogliamo vederla sotto un altro punto di vista si può pensare che anche oggi i ragazzi abbiano fatto questa sorta di festa al mister perché lo sta venendo molto concentrato, o chissà, magari possono essere circolate delle informazioni che a noi al momento non sono ancora arrivate, vedremo. Oggi c'è da pensare soltanto appunto alla semifinale di andata di Europa League. E infatti Allegri dice, è una semifinale di Europa League contro una squadra che ne ha vinte sei tra Europa League e Coppa UEFA. Sono abituati a giocare questo tipo di partite, non escono mai dalla partita, serviranno due belle gare tra andata e ritorno, ma dobbiamo iniziare da domani sera. Poi vi dico una roba perché c'è stata una domanda molto interessante proprio a questo proposito del fatto che il Siviglia abbia vinto così tante volte questa competizione, e voglio farvi un parallelismo molto molto interessante, una sorta di aneddoto proprio riferito ad Allegri per altre cose, per la Champions, ma che si incastra davvero molto bene. Dice Allegri, io non so che cosa succederà, noi abbiamo comunque una corazza ormai che non ci sposta più niente, è un anno che si passa dal bianco al nero, poi il giallo, il blu, l'azzurro, tutti i colori che cambiano, tutti che parlano, tutti che sanno, ma noi ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due partite d'Europa League, le altre quattro di campionato, noi sul campo dobbiamo fare il massimo, visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo, dobbiamo mantenerlo, è questo su cui dobbiamo lavorare a fine anno. Una volta fatto questo, noi abbiamo fatto il nostro. Allegri che mette la concentrazione, l'attenzione di tutti, del gruppo squadra e del gruppo Juventus, comunque di tutto l'universo Juve, su queste ultime sei partite, ma concentrarsi ovviamente per forza di cose anche sull'andata e ritorno della semifinale di Europa League. Allegri dice, tutta la squadra sta bene, ieri abbiamo visto in allenamento anche che le gambe girano molto bene, domani le scelte saranno difficili, anche quelli che sono entrati domenica hanno fatto bene, come Vlauvi c'è chiesa con gol e assist, anche quelli che verranno in panchina potranno cambiarla a seconda del minutaggio, l'importante è che siano decisivi. Allegri si rende conto che in questo momento ha tanti giocatori a disposizione, si rende conto che magari ci sono anche tanti giocatori che dovrebbero giocare per forza di cosa, per ragioni numeriche, sono costretti a rimanere fuori e sa benissimo che i giocatori che entrano dalla panchina possono essere delle armi potentissime a disposizione. E finalmente la Juventus inizia da avere quasi tutti i giocatori, almeno a fine dell'anno ce l'abbiamo fatta. Dico quasi tutti perché, ovviamente. Allegri dice, serve l'atteggiamento che abbiamo avuto a Bergamo, con il Lecce e a Bologna. Affrontiamo una squadra che ha vinto tanto, ci vuole rispetto. Con una volta, vi dico, tra poco vi spiego perché Allegri dice anche queste cose oltre alle solite frasi fatte. No, non ho parlato con Vlaovic. Sarebbe bello, anche se non è facile per i ragazzi interessati dalle offese razziste, ignorare e poi chi di dovere punire. Io, da questo punto di vista, sono molto d'accordo con Allegri. Sarebbe bello, perché anch'io se ci penso, dico, cazzo, dovrebbero semplicemente ignorare e poi arriverà la punizione che... Però penso io. Io vi dico, io lo penso, quindi mi metto come colpevole di questa cosa. Lo penso, però sono caucasico. Sono caucasico, sono magari eterosessuale, quindi non faccio parte di minoranze. Faccio parte dello standard, quindi certe cose magari a me non toccano e non posso medesimarmi nella vita di queste persone. E quindi sì, sarebbe molto bello vedere Vlaovic che semplicemente ignora questa cosa, fa gol e gode dentro di sé perché, cazzo, ha fatto gol. Sarebbe bellissimo, anzi, probabilmente sarebbe anche la cosa più giusta del mondo. Però io non sono Vlaovic, non sono stato interessato da queste cose, come non sono Lukaku, non sono stato interessato da queste cose. Io in maniera ipocrita lo dico. Sì, sono d'accordo con Allegri, sarebbe bello ignorare, sarebbe bellissimo. Però viviamo in un mondo probabilmente utopico, se facciamo questi ragionamenti. Io capisco che quello che dice il mister, lo condivido. Non deve essere semplice per quelli che invece queste cose le vivono. Credo che sia giusto sottolinearla. È una partita dove non si può difendere in tre, ce la farlo in dieci o in undici. Servirà andare al meglio, loro hanno giocatori tecnici, dobbiamo sfruttare le loro debolezze. Sarà una partita difficile, è pur sempre, una semifinale. Qua passa un buon messaggio, cioè, inutile parlare di difesa a tre o a quattro, si difende in dieci, in undici, una squadra attacca in dieci, in undici difende in dieci, in undici, a seconda di quelle che poi sono delle micro sfumature. Però è vero, si attacca in undici, si difende in undici. Questo è. Sinceramente non ho idea di cosa aspettarmi. Io penso 3-5-2 o 3-5-1-1, che dir si voglia. Non so cosa aspettarmi, però. Sarà una partita dove secondo me verrò anche un po' stupito. Vi dico una cosa, domani non ci sarà la live reaction su Twitch. Perché? Perché sarò allo stadio. Quindi ci sarà il post partita direttamente dall'Allianz, e poi tutti i video successivi arriveranno sul canale YouTube. Su Twitch domani non facciamo niente. È stato uno schizzo dell'ultimo secondo. Ieri sera mi sono messo a cercare, a prenotare il treno, l'hotel e tutte queste cose qua. Quindi domani sera vi porto il contenuto direttamente dallo stadio, sperando che possa essere qualcosa di positivo, perché ne abbiamo bisogno tutti. Io almeno sento di aver bisogno di una serata importante dal punto di vista calcistico-sportivo a tinte bianco-nere. Quindi dai, cazzo. Angel Domani sa per conto suo cosa deve fare, soprattutto in partite difficili, dove serve fare risultato e prestazione, è sempre stato presente. E per lui parla la sua carriera. Milik non mi ha sorpreso, lo conoscevamo. Mi ha sorpreso caratterialmente in positivo. È straordinario ed è equilibrato. Può dare ancora tanto alla Juve. È stato un ottimo acquisto. Quindi parole al miele per il numero 14, dopo una domanda appunto della televisione polacca. Allegri dice, io domani non ho ancora deciso niente. L'unico che non gioca sicuro, e quindi abbiamo un infortunio, è Bremer. Che non è un infortunio, è un affaticamento, un muscolo della coscia. E non sarà quindi a disposizione. La squadra sta bene. Ieri e oggi è stato fantastico vedere l'allenamento. Serve grande entusiasmo per andarci a prendere una finale a Budapest. Ma serve un passettino alla volta. Ora, io sono molto un fan dello sviscerare tutto quello che accade all'interno di una squadra di calcio. Perché per me, per arrivare a raggiungere risultati sul campo, servono, ovviamente, una preparazione tecnica, una preparazione tattica e una preparazione psicologica. Senza la tattica, puoi avere anche i giocatori tecnici che non vai da nessuna parte. Quindi serve una sorta di scheletro in cui i giocatori vadano ad essere inseriti. Puoi avere anche la tattica, ma se non hai i giocatori forti, tecnicamente, non vai da nessuna parte. È una cosa che ci dice spesso Guardiola. Io senza i giocatori di un certo livello, comunque, potrei avere in testa il calcio che voglio. Poi se i giocatori non sono in grado di attuarlo, facciamo fatica. Quindi queste due cose, secondo me, sono molto importanti. Ma tante volte non si parla della parte relativa alla testa, relativa all'atteggiamento, relativo al mood. E Allegri sta battendo tanto su questa cosa. Oggi abbiamo visto una squadra felice, oggi abbiamo visto un Di Mareo, un Allegri concentrato. Allegri sta dicendo, serve grande entusiasmo. Senza questa roba qui, se anche magari le altre due componenti, ma gli altri hanno più entusiasmo e anche le due componenti, è un problema. Quindi se noi dal punto di vista della tattica siamo un pochino più limitati in questo momento, se dal punto di vista della tecnica, secondo me, invece, siamo superiori al Siviglia, se noi non abbiamo la grinta, la voglia, l'atteggiamento, la volontà di andare a giocare la finale, non ci andiamo. È impossibile. Io non voglio essere ipocrita o falso. Io credo che la Juventus sia la squadra migliore, in assoluto, tra le quattro rimaste nella competizione. Probabilmente anche la squadra che ha più probabilità di arrivare poi alla vittoria finale. Però questo sulla carta, il campo poi ci dice un'altra roba. Dipende come arrivi a giocare queste partite, qual è il mood, se sei stato abbattuto, come ci arrivi fisicamente, se i giocatori chiave stanno bene, come prepari tatticamente le partite a un insieme delle tre cose. Quindi la Juventus per me, sulla carta, è la miglior squadra rimasta all'interno della competizione. Però non basta questo, servono altre componenti. E il fatto che Allegri stia battendo molto, anche sul tasto, relativo all'entusiasmo, alla spinta, alla voglia, credo che sia veramente molto, molto importante. E poi gli fanno una domanda e gli dicono, ma mister, questa squadra ha vinto sei volte appunto l'Europa League, cioè, tra virgolette, c'è una sorta di DNA. Allegri dice, è una cosa che non si deve spiegare, è una cosa così. Sì, però io negli ultimi anni ho giocato due finali, un quarto, eliminazioni varie, le ottavi, e quest'anno fa una semifinale d'Europa League. Cerchiamo di arrivare in finale e magari di vincerla, ma non sarà facile, perché Silvia è forte. Ora, me la sono tenuta per il gran finale. Facciamo che vi leggo l'ultima domanda e l'ultima risposta di Allegri, e poi vi spiego meglio. Perché un giornalista dice, beh, mister, dai, non prendiamoci in giro, vuoi andare in finale? Allegri giustamente dice, non io, vogliamo arrivare tutti in finale. Nelle difficoltà di quest'anno la squadra è stata comportata bene a livello professionale e morale. Mancano 20 giorni, sono i più importanti, in questa settimana si deciderà tutto dentro fuori per quanto riguarda l'Europa League. Se non arriveremo in finale, vorrà dire che gli altri saranno stati più bravi di noi. Vediamo di uscire da queste quattro partite di campionato nel migliore dei modi. Sì, ora si decide tutto, e questo è l'ultimo trofeo che rimane a Juventus disponibile, quindi ci tengo io in particolare modo, perché intanto non ho mai visto un'Europa League vinta. Mi piacerebbe festeggiare un'Europa League. Domani sono allo stadio. È, secondo me, il modo più efficace per arrivare eventualmente a giocare la Champions League, perché in Serie A sappiamo bene che ci saranno un po' di problemi, e poi un po' di orgoglio per cercare di alzare un trofeo. Beh, questo deve assolutamente esserci. Vi dicevo, ho avuto l'opportunità su tutti i teorici, non so se avete visto il video, di parlare con Pelle Gatti di questa cosa. Pelle Gatti che è amico di Allegri, hanno una passione condivisa per i cavalli, Allegri è stato al Milan, quindi si conoscono molto bene, mi ha detto una cosa interessante, e cioè, Allegri è sempre stato spaventato, terrorizzato, dalle squadre che avevano una discreta tradizione europea. Mi parlava di Manchester, di Ajax, di tutte quelle squadre che comunque hanno vinto le competizioni, che hanno sempre avuto il Real Madrid, il Milan, quelle squadre lì. E Allegri diceva, sì, noi possiamo anche andare a giocare una partita contro magari l'Ajax più scarso negli ultimi vent'anni, però c'è quella tradizione europea che è qualcosa che non si spiega. Che è un po' l'idea che io anche ieri sera guardavo Real Madrid City e pensavo, cazzo, le City sono nelle ultime dieci partite, ne avrà vinte sette, otto, una roba del genere, ha sempre fatto delle prestazioni incredibili, in Premier negli ultimi cinque, negli venticinque, tra cui lo scontro diretto con l'Arsenal gli ha dato 4 a 1. Poi arrivi in Champions, suona quella musichetta e Real Madrid diventa un muro di gomma, quasi insormontabile. L'anno scorso Real City è stata una partita inspiegabile, illogica, priva di qualsiasi senso. Non ha senso che Real vada a recuperare quei gol nel finale. Perché succedono queste cose? E io vi dico sempre, io non riesco a spiegarmi il DNA, è una roba che non riesco a spiegarmela, non ce la faccio. Devo mettermi qui a spiegarvi perché il Real Madrid in Champions fa quella roba lì, oh ragazzi io non ci riesco. Non ce la faccio, non ce la faccio. Per me è impossibile. So che qualcuno semplicemente dice, è il DNA, qualcuno dice il DNA non esiste, io mi vedo più dalla parte di quelli che dicono il DNA non esiste, perché poi cazzo c'è la preparazione, c'è il giocatore diverso, l'allenatore diverso, l'annata diversa, sono cose differenti, il lavoro, qualsiasi cosa. Però cazzo poi suona quella musichetta e Real Madrid è una squadra di quel tipo lì. Come si spiega questa cosa? Io, ma lo dico da sempre, non me la spiego, è una cosa che non mi spiego. E anche Allegri dice, non si deve spiegare. È una cosa così. E secondo me sono delle sorti di misteri, di dogmi che rimangono all'interno di questo sport. Questo per dirvi che Allegri ha sempre avuto paura di quelle squadre, ma una paura buona, una paura rispettosa, preoccupazione per quelle squadre che incarnano questa roba qui. E dato che non stiamo giocando la Champions, e dato che non c'è il Real, il Sevilla e il Real Madrid di questa competizione. Io sono convinto che oggi Allegri fosse così teso, diretto, perché preoccupato di quello che accadrà domani. E quindi, dico la verità, sono un pochino più speranzoso, perché so che ci sarà maggior attenzione nel preparare questa partita, proprio perché c'è una tradizione europea legata a questa Coppa. E Allegri queste cose ci sta molto, molto attento, perché potrà avere tutti i rifetti del mondo sulla fase di costruzione della squadra, sulla bellezza, quello che volete, tutto. Ma lui queste cose qui sono delle cose che ce le ha fisse qua, sono il suo credo, i suoi dogmi, quindi sono convinto che proverà a prepararla al meglio. Ci riuscirà? Beh, questo ce lo dirà il campo, ce lo dirà la partita di domani. E speriamo assolutamente di sì. Ragazzi, un abbraccio, carichiamoci, cazzarola, perché questo è il momento, davvero il momento, in cui possiamo sperare di dare un minimo senso a questa stagione che è stata stressante, lunga, lunga e stressante. E fino adesso priva di emozioni, priva di gioie. Domani sera possiamo avere la possibilità di mettere un mattoncino che ci permetterà poi eventualmente forse di mettere per sempre nella storia qualcosa. Per arrivare però a mettere per sempre nella storia qualcosa bisogna passare da domani sera. È il primo passo per. Ce la faremo? Non ce la faremo? Soltanto il destino, soltanto il futuro ci darà questa risposta. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti e domani vi porto ovviamente il video in cui vi parlo anche un po' di quello che è il Siviglia del momento del Siviglia, dello stato di forma del Siviglia e ve lo dico già. Ci sarà un po' da preoccuparsi. Se volete mettervi avanti fate un piccolo resoconto ma non è proprio meraviglioso. Ciao ragazzi, un abbraccio e forza Juve in questo momento più che mai. C'è bisogno di sostenere i ragazzi.